siamo a ciao chef in viaggio abbiamo lasciato roberto in cucina a preparare il piatto e guardate dove sono in un posto meraviglioso in mezzo agli uliveti siamo nel lazio nel centro del lazio tra il lago di vico e lago di bolzena allora mi ha raggiunto vittorio dalla tuscia lo chiamiamo così perché appunto siamo nella tuscia e siamo qui in questo oliveto l'oliveto traldi e anzi salutiamo roberto roberto noi siamo qui in mezzo al verde ciao chef allora sono pronte le olive le possiamo prendere ancora non ancora non le vedi perché ancora non ci sono ci saranno stiamo lavorando per voi allora senti quest'albero è bellissimo pieno pieno di rami ma questi fiorellini questi poi diventeranno le olive tra un po tra qualche mesetto con la giusta cura e con la giusta attenzione noi avendo circa 30 ettari di oliveto in porzioni differenti della tenuta ma facciamo anche delle sperimentazioni e anche per quanto riguarda la potatura quindi qui è stata fatta una potatura importante qui possiamo vedere la tecnica del vaso policonico questa forma che vedi tu è per far prendere luce aria all'albero che si allarga in questo senso qui per facilitare la raccolta perché tutto è finalizzato al metodo di raccolta bellissima questa cosa che è da notare questa è un'osservazione bellissima quindi hai detto albero policonico a vaso policonico ma noi ci andiamo a fare una passeggiata così vittorio mi racconta un po le meraviglie di questo posto andiamo a vedere andiamo dai andiamo eccoci a ciao chef in viaggio allora dopo la potatura possiamo raccogliere le olive ecco qua guarda quante ce ne sono io comincio a prenderle tu queste le vuoi raccogliere ma sono quelle avanzate dalla scorsa raccolta dopo la sono così belle nere bellissime bellissime si possono mangiare anzi poi diamo uno spunto allo chef però dopo la potatura l'albero ancora non è pronto a fruttificare ha bisogno di alcune di alcuni aiuti naturali quindi la l'irrigazione la concimazione organica e anche l'apporto di sali minerali poi viene questa irrigazione io non vedo niente qui in questo caso viene con la botte che espande l'acqua però la la porzione che non stiamo visitando in questo momento ha tutto l'impianto a goccia ogni albero ha la propria porzione di acqua ciao chef vittorio abbiamo salutato roberto che intanto cucina e mi fai fare questo bel giro in mezzo a questi uliviti come sono gli step lavorativi spieghiamo un po al nostro pubblico come si arriva dal dalla pianta all'olio all'olio non si non ci si ferma per un giorno dell'anno ogni giorno devi stare sempre sul pezzo e dare all'albero di ulivo al terreno su cui insiste ciò di cui hanno bisogno quindi per quanto riguarda l'albero ad esempio la potatura è stato concimato gli è stato dato l'apporto di sali minerali l'acqua di cui ha bisogno le olive le rafforziamo ai primi di ottobre per tutto il mese di ottobre quando sono verdi o appena appena violacee ad invaiatura appena iniziata quando sono in quel modo le mangiamo ma non ci facciamo l'olio sicuramente le portiamo lo chef vediamo che cosa ci prepara grazie vittorio di averci ospitato qui di averci fatto fare questo viaggio nella conoscenza dell'olio l'oro l'alimento principe del nostro cibo e vi saluto ciao chef in viaggio ed appuntamento alla prossima puntata ciao chef ciao